Io commenterò le candidature appena saranno ufficiali, appena saranno ufficiali le candidature di Lettire e di Bassolino o di altri, io le commenterò, ma io non sto in campagna elettorale, l'ho detto, stiamo a ottobre 2015, ci vogliono ancora parecchi mesi e io devo governare la mia città, la nostra città, devo dare il massimo, devo raccogliere la tanta semina che abbiamo provocato in questi anni, sono impegnato tantissimo. Poi ci sarà la campagna elettorale, chiaramente l'affronteremo a testa alta, con rispetto nei confronti di tutti, senza timore, in piena autonomia, quindi confermo questa scelta di andare in autonomia, appena gli altri avranno deciso chi schierare in campo andremo a fare una leale e dura campagna elettorale. Le priorità sono tantissime, è difficile fare un elenco, noi lavoriamo soprattutto sulla qualità della vita quotidiana, quindi siamo concentrati su alcuni assi strategici ovviamente del nostro programma, che sono diversi, ma quello che voglio maggiormente caratterizzare come attività di fine mandato è il miglioramento delle piccole cose, quello che poi stanno a cura i napoletani che ti chiedono sempre normalità e ordinarietà, su quello che lavoreremo.